3 passi corretti per diventare trader partendo da zero e senza esperienza Come diventare trader e senza dubbio una domanda che in tanti al giorno d'oggi si stanno chiedendo, pubblicità che mostrano come guadagnare in borsa facilmente e senza il minimo sforzo e broker assillante con telefonate che promettono di guadagnare in borsa diventando un trader professionista in poche ore. Ovviamente saprai che sono solo illusioni, ma cosa ti serve davvero per diventare un trader indipendente che opera sui mercati finanziari? Vediamolo subito insieme. Il percorso di studio per diventare trader partendo da zero in tre passi. Per diventare un trader la prima cosa da fare, o meglio studiare, si chiama analisi tecnica. L'analisi tecnica dei mercati finanziari è la materia che studia l'andamento grafico di uno strumento finanziario e cerca di prevedere le tendenze future. Ho usato il termine e cerca evolutamente, prevedere l'andamento del prezzo e dei rispettivi movimenti sui mercati finanziari non è una scienza esatta ma può essere considerato un calcolo probabilistico. Non esiste un percorso di studi per diventare trader e nemmeno una scuola certificata, è qualcosa che dovrai intraprendere in maniera quasi del tutto autonoma, o al massimo leggere libri o seguire qualche corso privato. Ma non avere fretta di correre, puoi iniziare da qualche libro e poi iniziare ad approfondire la materia per diventare un trader professionista a tutti gli effetti. Adesso ti elenco tre semplici passi che possono aiutarti nel percorso di studio che porta a diventare trader partendo da zero. Tre semplici passi per diventare trader professionista. Analizziamo subito i passi principali che puoi iniziare da subito per entrare nel mondo della borsa e dei mercati finanziari. Te li ho messi in ordine e sono quelli essenziali, poi toccherà a te approfondirli, come vedi nel mio blog ti puoi immergere in letture e studi infiniti. Il primo passo, studia l'analisi tecnica. È senza dubbio il primo passo se vuoi puntare a diventare un trader di successo, l'analisi tecnica è una materia molto vasta e agli inizi farai fatica a capire come avvicinarti ai mercati finanziari e ottenere dei guadagni. Puoi dare un'occhiata a questo articolo dove spiego come guadagnare in borsa con l'analisi tecnica e le migliori letture da dove iniziare. L'analisi tecnica, soprattutto agli inizi, ti sembrerà un vero e proprio casino, numeri, broker, piattaforme di trading, oscillatori, indicatori e tanto altro, ma d'altronde sappiamo entrambi che le cose facili difficilmente portano a guadagni seri e costanti, quindi non demordere. Purtroppo non esistono scuole certificate per aspiranti trader quindi dovrai formarti da solo con libri, corsi di trading privati e tanta pratica, inizialmente in demo, sui mercati finanziari. Se vuoi accorciare le tempistiche puoi scaricare il mio ebook dove spiego in modo più dettagliato come fare per iniziare a fare trading online, non ci sono promesse di guadagni facili ma almeno puoi capire meglio da dove iniziare e quale strada percorrere. Il secondo passo, fai pratica in demo. Diventare trader facendo pratica con soldi finti non è garanzia di successo, ma sicuramente bisogna passare anche da questo genere di operatività finta. Molti broker mettono a disposizione per periodi limitati le loro piattaforme per fare trading online, il problema è che nessuno in 15 giorni riuscirà mai a fare esperienza sui mercati finanziari né tantomeno a diventare un trader esperto. Ti serve qualcosa che non abbia limiti di tempo. Ho pensato anche a questo nel mio ebook quindi ti consiglio di scaricarlo il prima possibile. La pratica sui mercati finanziari è molto importante ed è l'unico passo che veramente può portarti concretamente ad operare sui mercati e ad avere successo in questo mestiere. Il terzo passo, trova la tua operatività di trading. Questo è l'ultimo passo importante per passare dalla teoria alla pratica con conti reali, trovare la propria operatività come trader e testarla nel tempo, dopo averlo fatto puoi pensare di iniziare a fare trading con soldi reali. Puoi anche copiare i più famosi e ricchi trader finanziari del pianeta, ma se la loro strategia non si adatta alle tue esigenze durerai ben poco nel mondo del trading online. Hai bisogno di avere una tua strategia di trading che consisterà in quattro semplici passaggi. Come entrare a mercato. Come uscire in guadagno. Quanti soldi rischiare. Dove posizionare lo stop loss protettivo. Ovviamente ti ho semplificato il tutto ma i concetti basilari sono questi, per diventare trader ci vuole studio, costanza e pazienza. Guadagni facili e veloci non esistono, diventare trader, considerazioni finali e come iniziare subito. Diventare trader richiede studio e disciplina, non solo della materia ma anche di te stesso. Operare sui mercati finanziari richiede passione e costanza, se lo fai solo per soldi sarai destinato a fallire. Capisco che è difficile resistere alla tentazione di cliccare su quegli annunci dove si promettono stili di vita da milionari con la semplice compra vendita di azioni o strumenti finanziari svolta dal PC, magari in qualche spiaggia in giro per il mondo, ma la realtà è ben diversa. Per diventare un trader esperto devi studiare, non esistono scorciatoie, se stai leggendo il mio blog comunque sei sulla buona strada.